allenamento un fa settimane alla fedini con il presidente grazi si aspetta la gara di domenica che vedrà la vincente poi affrontare in casa qui alla fedini proprio la san giovannese quale preferisci delle due squadre e senti non le conosco sinceramente molto bene domenica infatti andremo giù con mister a vedere la partita per rendersi conto anche meglio di quelle che sono le qualità sicuramente a vezzano è più piazza c'è bel pubblico una città l'altra dicono c'è poco pubblico insomma una realtà numericamente inferiore quindi probabilmente preferire la torrese quindi un san giovannese che aspetta domenica però la giovanese si prepara indipendentemente dall'avversario per provare a vincere questi playoff nazionali sì sì nel nostro obiettivo è quello di vincere la semifinale poi la finale perché crediamo di avere una squadra importante uno staff importante una tifosteria che domenica ha superato le mille unità che in eccellenza direi che è quasi un record quindi le componenti ci sono c'è anche un ottimo feeling con l'amministrazione comunale come rappresenta come testimone la presenza del sindaco quindi direi che le componenti sono tutte buone per far sì che san giovanni vada in serie di e poi faccio anche una serie di importanti poi chiaramente sarà sarà il tempo a stabilirlo una partita quella di domenica bellissima una finale playoff regionale molto bella poteva succedere di tutto però il cuore ha vinto in questo caso sì verissimo una giornata di sport è bella a partire dalle tribune civiltà e tifo ci sono stati la partita è stata bellissima combattuta fra due ottime squadre abbiamo spuntata noi anche se la castellinoveste sicuramente ci ha messo in grande difficoltà fino all'ultimo ci ha fatto correre un grande spavento però onore a loro onore a noi noi andiamo avanti rappresenteremo questo girono in tutta italia quindi questo per il secondo anno consecutivo quindi questo ci rende estremamente contenti anche se non siamo assolutamente siamo ancora affamati perché vogliamo arrivare alla serie di ricordiamo l'appuntamento è il 25 di maggio 25 di maggio in casa contro la vincente fra vizio torresi la settimana dopo il ritorno poi eventualmente sarà la finale aspettiamo come sempre come domenica una grande tifoseria perché può essere veramente la nostra spinta decisiva